Sarà un primo maggio anche di arte e cultura, con all'Aquila i siti archeologici aperti. Un'apertura straordinaria martedì primo maggio dell'area archeologica di Forcona, Cività di Bagno, una delle più belle ed apprezzate, dalle 9 alle 19.30, un'occasione assolutamente da non perdere per il turismo, ma anche per gli aquilani che non l'hanno mai vista, visto che l'area, di rilevante interesse culturale per la storia del territorio aquilano, è aperta soltanto in occasioni particolari. Il sito romano di Forcona è da sempre un punto nodale della storia delle civiltà del territorio aquilano. Le testimonianze archeologiche, unitamente alle testimonianze storiche ed epigrafiche, consentono di disegnare un quadro del valore del centro e dell'area limitrofa, fin dai tempi più remoti, un'importanza legata alla presenza dell'acqua, alla fertilità della terra e alla vicinanza degli antichi percorsi della transumanza, oltre che a luoghi di culto e riferimento per una vasta area geografica e culturale, come dimostrato dalla presenza poco distante dei resti imponenti dell'antica cattedrale di San Massimo di Forcona, sede della prima diocesi del territorio aquilano. Ma anche il teatro e l'anfiteatro di Amiternum, alta ricchezza del territorio aquilano, saranno aperti tutto il giorno dalle 9 alle 19.30, dunque parecchia scelta per chi vorrà visitare l'Aquila nella giornata del primo maggio.